Hola, io sono Marcos Kron e signori e signori bentornati nella Tekken Beacraft 4 Guardate quanto siamo belli templarosi e con il TARDIS sopra Ma signori, doctor... E fuori piove tempestosamente Non so se si sente troppo Oh, l'innevica Wow, 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 wow Ma non è questo il momento di star fuori a tergicristalli Ci interessa piuttosto guardare qui Guardate che bel lavoretto di Fino Il vostro Marcos Kron è tutto a FK E con un poco di spendio di cerciole e di tempo Ha fatto prima un corri qua In una puntata, l'avete visto Poi ha spostato... no, queste sono braciole Ciao braciole Poi ha spostato un corri qui Poi ha spostato un corri qui Poi ha fatto delle landmark E ha fatto un corri di qua, a questo lato E poi ha fatto un corri di là Con il marmo ricalavato dal corri Ha fatto questo pavimento Non contento Ha detto, ma se faccio casa su livelli Quindi con il marmo grezzo Ha fatto anche quest'altro livelletto qua giù E quindi qui ci sarà la nostra casetta Ma signori, in una serie tecnica Arrivate ad un certo punto Si deve smettere di utilizzare il cerciole Per dare energia alle cose Soprattutto perché, ok, il corri ne consuma poca Cioè, la lasciamo qui Io lascio il personaggine a FK Però io ho davvero un po' di roba da smeltare Da polverizzare e da smeltare E non mi posso mettere qui a grindarla Capito? Anche perché dopo un po' La manovella o le palle Beh, raga, ce se rompono Quindi, 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 quindi Intanto guardate che ben di Dio Allora Ho beccato la lava Ho tirato il secchiello d'acqua E abbiamo l'ossidiana Tra l'altro fammi vedere se c'è quella mod utilissima No, che palle Non c'è No, davvero Quella è la mod più bella di tutte Metteva una plate d'ossidiana Che nessun mob poteva calpestare E quindi la porta la primo soltanto io Guardate Certus Quartz Diamanti Call A parte che il call l'ho messo qui Sono soltanto 600 perici pazzi di call Redstone Flint A go go Quella è la merda della Forestry Poi che abbiamo Un sacco di zafferi Lapiscazzoli 5 stacca di ferro Un poco di oro Un poco di silver 3 di copper 3 di tin Signori Siamo una favola Dobbiamo soltanto Avere l'energia Per polverizzarlo Quindi raddoppiarlo E poi smeltarlo Un ragazzetto mi ha chiesto Se posso essere più spiegone Cerco di farlo Ma non troppo Sennò tutti quelli che già conoscono sta roba Si rompono il cazzo Io Ma perché oggi tiro le braciole? Va bene Va benissimo Marcus Stai tranquo Io ho fatto la work table Della forestry Si fa I crafting Vi potreste pure andare a vedere Brutti picroni di merda Si fa in questa maniera molto semplice Il book l'ho trovato Al villaggio Nella puntata precedente Il crafting table E la chest Ora raga Scusate ma Quando è che smette di piove? Perché sta a piove da 50 anni Qui intanto è di nuovo pieno di expi Scusate eh Pipiripipipipipipipi Se faccio così che succede? Silenzio finalmente Eccoci qua Un sacco di gente Mi ha chiesto di mettere la musichetta Dentro la serie Vedremo 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 La work table è davvero molto carina Io se ad esempio Le spiego che No aspetta Questo è un esempio del cazzo Facciamo una cosa fatta bene Tipo Tipo Team gear Glass 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 E ferro tutto Ferro ho detto E ferro Ah Ah E ferro qui Questo qui è il machine frame Della Thermal Expansion Che si usa praticamente Un sacco di volte Guardate che fa Me lo fa prendere Lo prende dalla roba dell'inventario E me lo segna qui Adesso io vado avanti Voglio fare Nello specifico Signore e signori Un harvester Per fare un harvester Serve questa robetta qui E non la faccio L'ho messa a cuocere Questa qui si ottiene dalla plastica Che ci dà l'albero della plastica Strano eh Non c'ho Non c'ho È proprio Davvero impossibile arrivarci Caro Marcus Prendiamone soltanto Quaccio E andiamo A metterla Soltanto due così Ax Uh Invar Addirittura Vuole la roba di Invar Ma è fantastico Cioè Sei un pezzo di merda Però va bene lo stesso Quindi vuole Due Iron Dust E una Di Ferrous Ferrous Che dovremmo avere Sicuramente Ferrous Mi scusi Ecco Eccolo qui Io ovviamente Pensavo che non dovessi più Polverizzare niente E quindi ho rotto La Mannaggia Ai preti Pretofili Perché ci sanno i preti Anche non pretofili Quelli che non pretano Che non prelano Insomma Quelli là Allora Io mo Mi polverizzo Queste Queste due stronzate In parti Due terzi Sì però Se io non faccio La stecchetta Bellissimissima Eccola qua Non posso gridarlo Pinkate Ci metto anche Un po' Di No il ferro Il ferro Il ferro Il ferro Il ferro Il ferro Lo devo fare Vi consiglio Visto che l'inver Vi servirà Di farne un po' Di farne Ecco io l'ho messo 8 9 e 16 Fate 8 e 16 E vi mettete a srotellare Dai Aspettiamo un poco Ed eccoci qua Signori e signori Comunque non vi ho detto Quello che volevo fare Allora Chi mi conosce Da tanto Sa che A me piace giocare a Minecraft In una maniera Cioè io vi porto Sul canale Più o meno Perché salto alcune parti Come giocherei io Privatamente Molti youtuber Invece cercano Di far vedere Un sacco di cose Il prima possibile Tipo ad esempio A me piace Rushare facendo il cuore Ho 12 diamanti Faccio il cuore Ho la redstone Il ferro E l'oro Faccio La tartal Per dirvi Però Molti youtuber Tipo si preparano Si acchittano Si fanno 10 Steam Turbine E poi fanno la farm Di legno Che è un ottimo Un ottimo Un ottimo inizio Come fonte di energia Io invece voglio darvi Quella prima Quella senza dovervi Di smanacciare A fare 10 fornaci Poi fai lo steamboiler Cioè Quelle cose Facciamole dopo Adesso Noi che cosa serve Qual è la domanda Serve l'energia Necessaria e sufficiente Per polverizzare Non ci serve Un enorme farm Di alberi Ci serve Una farm Di patate Eh già Eh già Ok Quindi dicevamo Due pezzi Di iron E un pezzo Di Di ferro Ci danno Tre pezzi Di invar Quindi andiamo Non qui Ma qua Come disse Zio Paperino A fare Le nostre Bellissime Affie di inva Eccole qua E vediamo se Il nostro amico Vuole anche No Le asce Le vuole Le vuole Classiche Quindi Dacci Oggi La tua Dove è finito Il ferro Non l'ho messo Tutto dentro Vero Ah Ah Eccolo Perché sta qui Perché è finito Qui dentro Zan 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 Allora L'ascia O raddoppia Mio buono Buon amico Io metterei Questo Al centro Le due asce Alla destra E alla sinistra Sopra Ciccipuzzi Questo Qua sotto E poi andiamo a vedere Ci serve Un redstone reception coil Che si fa Abbastanza facilmente E questo Visto che è un crafting Ritornante Lo faccio in mantenente Si fa così Così E così Ok guardate Guardate che bello Me lo fa prendere E mi fa switchare Cioè se qui ci sono i componenti Per questo Me lo fa prendere Ma vi rendete conto Della cosa bellissima E soprattutto Per un tizio Che è davvero Un grosso disturbo Dell'attenzione Wow 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 West Bene 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 Signori Abbiamo un Harvester Harvester Che possiamo Tipo mettere Qui Sì Ma non lo metteremo No 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 Lo mettiamo qui Ma che dico Perfetto Comunque faccio notare Che sta ancora pioggiando L'immortacci sua Ok Sono andato a dormire Così Spero che se l'hai vista Cazzo Sì È giorno È giornissimo Come diamo Una botta di energia A il nostro amico Harvester Potremmo darli Con un Come si chiama I generator Generator Eccoci qua Eccoci qua Eccoci qua Potremmo fare Come fanno tutti Il furnace generator Che non costa un cazzo Per dargli L'energia necessaria Ad harvestare Cioè Prendere il raccolto Ho fatto Ho dato una gomitata Che sono fatto malissimo Ma Noi Vogliamo che tutto ciò cicli Quindi Facciamo prima Un survivalist generator Andiamo a prendere Della cobblestone Questa sembra una puntata Di crafting Ma non lo è Voglio semplicemente Farvi vedere Un po' Tutte cose Andiamo a prendere Della cobblestone Grazie Ne ho fatte Ottanta di fornaci Non so se te ne sei accorto Ma va bene lo stesso Poi Poi Dovrei aver tutto E invece no Ci manca Il ferrone Il ferrone Che si rifiuta Di credere Che ci sia Come mai Ehi ridami Ridami questo pezzo di ferro Non me lo Non me lo vuole ridare Allora Prenderò questo Se forse è il caso Questo ridammelo Polverizzato Brutto stronzo Guarda che anche Il ferro L'avevo fatto Va bene Questo è impazzito Completamente Minecraft Facciamo un altro po' Di Invar Ce lo teniamo in saccoccia Che Non si sa mai Eccoci qua Allora Badabim Poi Formace Thank you E ritorniamo Sul Survivalist Generator Serve un pistone Accidenti Stavo toppando All'astra grande Qui sopra Va della cobblestone Quindi Cobblestone Qui Dovrei avere Un pistone Che ho rubato Nella precedente puntata Eccolo qua Fantastico Adoro avere le cose Che non mi immaginavo Di avere Ehi Aio 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 Mi sta facendo malissimo Il nostro Ciccibuzzi Il nostro microfono Vi dà le scrocchie Elettrostatiche Poi prendiamo Il survivalist Generator Ci mettiamo Sta laggando il server Ci mettiamo Qui Qua E anche un po' qua E ci serve Un'altra Battela Piander Culo La volgarità Non ha mai Acciso Nessuno Marco Scuola E ci serve Ecco qua Con il survivalist Generator Otteniamo Il culinary Generator Signori Cosa fa Il culinary Generator Ma ve lo dico Subito Con le patate Produce RF Che alimentano L'harvester Che Rullo di tamburi Arvesta Sì Le patate E questo È Un fatto Ma a noi Interessa Che il nostro Amico Arvester Che adesso Sta arvestando Un'area 3x3 Arvesti Un'area Che Ho sbagliato A metterlo Eh Ho sbagliato A fare il campo Di grano Questa che cos'è Ok Patero Ho sbagliato A fare 1 2 3 Eh Eh Marcus Scron Marcus Scron Ma io Ma io Dico Ma ti puoi Fare errori così Basilari Eh Eh Ma come ti fai A permettere Ma come cazzo Parlo oggi Bim 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 Ok Adesso Sì Adesso c'è Equità Perché Il caos È Equo Harvey Dent Harvey 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 Dent Cosa succede Ragazzotti Se una forza Inarrestabile Incontra un oggetto Inamovibile Non lo so Non lo so Chiedete alla Joker Io giuro Non lo so Dunque Sto cercando Una OE A O Eccoci qua Come ho ottenuto Tutte queste patate Beh Molto semplicemente Ho scoperto Che mettendo le patate Qui dentro Ottengo i semi di patata Purtroppo In questa versione Del pack A differenza Dell'agricraft Che c'è nella Aiutatemi Come si chiama Come si chiama Della nostra Bellissima Recrocraft Andate va a vedere La Recrocraft Brutti bastardi Che non siete altri Guarda Uno Due Tre Ma è fantastico Sono bravissimissimo Perché questo non cresce Si rifiuta Va bene Ok Qui c'è l'erbaccia Quindi devo poi Scogitare un problema Quanti minuti sto di registrazione Dovremo andare bene Ora Io voglio Tante cose La prima È che questo Questo ciccipuzzi Arvesti Più tre A destra E a sinistra Per farlo Intanto lui sta Prendendo un sacco di energia Ci scrivono Accidenti Io poserò tutto qui dentro Poi Per farlo Voglio 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 avere In primo Anzi in primis Gli item duct Vi ricordate Gli item duct Sono tornati C'è la Thermal dynamics Fa cagare Cioè nel senso È fighissima Ma davvero Raga Fa cagare Ora Io vorrei soltanto Fare quelli Devo fare per forza Sta merda No dai E dai Nell'alloy smelter Per forza Alla se le stronzi Forti Dai Su Fammi fare questi Oh Tin E led Posso farlo Ne ho facoltà Giuro Giuro Che ne posso Fare Alcuni Dov'è il led Eccolo qua Prendiamo il tin Eccolo qua E non me lo fa Perché questo è silver Ma che canno vado dicendo Eccoli qui Quindi facciamo Dei bei tubetti Andiamo a Mettere i tubazzi Di qua Di qua e di qua Quindi gli diciamo A cicci guzzi Quando arvesti Quaggiù Ok Guardate È fullo di energia E questo lo leviamo Così smette Quando arvesti Manda qua Poi noi gli facciamo fare Un bel giletto di peppe E gli diciamo Vai a finire qui Levo le patate Così ce ne possiamo Rendere conto Se stanno arrivando O meno E andiamo a fare Un upgrade Dell'arvester A noi ci serve Upgrade Il più 3 Increase Reduce Quindi raggio Più 3 È una cazzata Farlo Dovremmo avere Qui Il ferro La redstone E il plastic row Di qua L'oro Se non di qui Quo Ma va bene lo stesso Anche zio paperino E quindi facciamo Badabim Sapete qual è il vantaggio Di questa farm Piuttosto che Di quella classica È che Non dobbiamo usare il planter Il planter è una rottura Di coglioni Incredibile Quindi Quindi Il goldone Andava qui La redstone Andava qua Questo andava qui Io ho toppato Completato il crafting Ma noi siamo felici Lo stesso E adesso Come potrete notare Signori e signori Mettendo questo Otterremo che Olle 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 E guardate qui Le patate entrano Sì E vengono Utilizzate Per Ridare energia Al ciccipuzzi E voi dite Sì vabbè Marcus Però Effettivamente qui ce n'hai 64 Qui il ciccio si sta ricaricando Però nel momento in cui Si è ricaricato È un po' lenta Come cosa Cioè tu non hai un guadagno Effettivo di patate Avresti ragione E quindi il tempo di salutarci Per 5 secondi netti Vado a fare qualche crafting E porno E siamo pronti Siamo caldi Signore e signori Per andare a Rendere tutto Molto più performante Quindi Facciamo così Buttiamo Io ovviamente me lo scordo A casetta Perché sono un pirlozzo Prendiamo Il nostro Liquid upgrade E basta Penso Possiamo bastare Tutto quanto Andiamo Sopra Qui E ci buttiamo Il liquid Come abbiamo fatto Nella puntata Dell'agricoltura Rompiamo questo blocco E otterremo La fonte Di acqua Good Però io dimentico Di prendere i pipe Perché sono un pirlozzo Ma freddi Ma freddi Ma freddi La testa La testa Transfer pipe Prendiamo i transfer pipe Uh avete visto Eh 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 Quindi li alziamo In un trionfo E gaudio Vieni qua Vieni qua Oh 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 No Oh ok Mettiamo Una bellissima Tanigoccia Non si mette Non si vuole mettere Se la metto così No Non mi fare questo Perché Ok Vieni qua Vieni qua Rompiti No 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 Che cazzo sta succedendo Bastarda L'acqua che elimina l'acqua Sta cosa è abbastanza odiosa Non la sapevo che facesse così Devo stare attento Devo stare attento Devo stare molto 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 attento Allora Facciamo la tanchina Quella nostra L'ho messa precisa Vero? Sì Ok perfetto Cose dispare Io odio le cose dispare Andiamo a buttare un occhio ragazzi Vedete È bella cicciotta di acqua Ottimo Quindi Soltanto come Chi Già ha visto la regrow Andiamo A fare il nostro Canale di irrigazione Badabim 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 No Liscio Dove sono finito? Ah sono dentro il buco Ok Ma sì ma sì ma sì ma sì Ma perché non dobbiamo essere esosi Quando possiamo Eccoci qua di nuovo Dentro il buco Ciao buco come stai? Quindi hop 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 Direi che Può bastare Questo Vediamo Vediamo Mazza come spruzzetta poco però Ha un bel raggio Ha un bel raggio Quindi forse lo posso mettere al centro Vieni qui Dove è finito? Eccolo Ok Questo sprinkler Signore e signori Tu rompiti 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 Aumenta È come se fosse del bomb meal Cioè i crops dell'agricraft Vengono influenzati E va tutto più Veloce Quindi Il nostro ciccipuzzi Presto raggiungerà qui dentro E avete visto 61 Attenzione 62 Forse lo vediamo in diretta Ma è una cosa maravigliosa Però fa così poca spruzzetto Spruzzetto Guardate 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 quanto crescono veloci Attenzioni Attenzioni Vediamo un po' 63 64 Adesso la prossima che prende E qui sta accumulando Vuol dire che questo è pieno Wow La prossima patata che prende Va a finire qui dentro E ce ne abbiamo due Aspettiamo qualche minuto Intanto io vado a dormire Andiamo Giusto il tempo di andare a dormire E fare un altro splinker Perché magari si sommano gli effetti Non lo so questo Non vi voglio dare farsi informazioni E abbiamo uno stack e nove pezzi Che cazzo ci faccio con queste? Ma è molto semplice Ho Da una parte cibo infinito Dall'altra Io posso molto semplicemente fare questo Oppela Spostarmi per di qua Fatevi battere tutte e bene le cose Portarmi le patate qui dentro Fare un altro culinary generator E ottenere tutta l'energia che voglio Per alimentare un pulverizer e una fornace Per ovviamente smeltare tutti questi ore A costo zero Nella prossima puntata Vedremo altri automatismi Quelli base per iniziare Poi probabilmente ci dedicheremo Un pochino alle api All'inizio Ovviamente questo va Sistemato Levando le connessioni Non con lo shift Però Barcus Altre ti non funziona E voilà No così E voilà Perfetto Così le patate vanno là dentro Nel momento in cui si satura Ecco che Esplodono Non lo sapevo sta cosa Effettivamente non sa dove tirarle fuori Quindi per ora Per ora Per ora Per ora Per ora Ci mettiamo un cestolino E le mettiamo Qua Qui E anche un po' Qua Fantastico Qui chiudiamo Con del marble Ma marble E signori questa è la tech and be craft Cioè Automatizzazione Con soltanto Pochissimi materiali Per massimizzare Un effetto Che ci permette di ottenere Una Sostanzialmente una catena Di processi Ed è questo Che mi piace di minecraft Quello tecnico Minecraft tecnico Spero che sia tutto chiaro Se vi sfugge qualche cosa Scrivetelo nei commenti Io li leggo tutti E noi ci vediamo Alla prossima volta Da tech and be craft Bella per voi Tra l'altro poi Ci stanno anche i pannelli solari Bella Ciao Ciao Ciao